Sto controllando i dintorni. We turn have hit fire. Qui c'è uno scudo ausiliario, livello 2. Sto controllando l'area. Qui c'è un triple take. Rimane metà delle squadre. Sto controllando l'area. Controlliamo quella zona. Nemico laggiù. Sto controllando l'area. Nemico laggiù. Aproi fuoco. Tengono d'occhio. Ho abbattuto il nemico. Ricarico. Mi bagno nel sangue. Un minuto. Sono sotto tiro. Ricarico. Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scontri. Ricarico. Sono sotto tiro. Granata. Ricarico. Abbattuto un nemico. Salto temporale. Sono sotto tiro. Lancio una granata terribile. Squadra abbattuta. Abbiamo fatto le scelte giuste. Ricarica scudo in forza. Dieci secondi alla menina. Almeno è vicino. Qui c'è un calcio standard. Livello tuo. L'anello si sta muovendo, guerrieri. Nessuno è dentro. Sì. 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 Grazie a tutti. Sto guardando. Tengo gli occhi aperti, però. Sto guardando. Sto guardando. Salto nel vuoto. Ricarico. Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi. Ricarico. Ancora due squadre nemiche. Uccidiamo e prendiamoci la vittoria. Bene. Ricarica scudi in corso. Ricarico gli scudi. Rimane un minuto. Sto controllando l'aria. 45 secondi. L'anello è vicino. Siamo vicini all'anello. Restano 30 secondi. Qui c'è uno stabilito. Qui c'è un triple take. Qui c'è uno curatore per shotgun. Livello 3. Sto controllando i dintorni. Grazie. 10 secondi all'anello. Almeno è vicino. Attenzione. Anello in movimento. Attenzione. L'anello si sta muovendo. Capsula assistenza in arrivo. Capsula assistenza in arrivo. Andiamo da questa parte. Tengo gli occhi puntati su questa zona. Sto controllando i dintorni. Sto controllando i dintorni. Ok. Esploriamo da questa parte. 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 mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi il fuoco mi sapevo il loro mirino ricarico 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 nemico abbattuto sto controllando l'aria meno di 30 secondi l'anello è vicino stanno colpendo stanno in vuoto squadra ambientata rimane una squadra sto guarendo tengo gli occhi aperti però qui c'è una Elstar 10 secondi l'anello è vicino padre di tutti i dei concedimi la vista attenzione l'anello si sta muovendo mi stanno sparando mi sto curando rimane un minuto ricarico sto controllando i dintorni ricarica scudi in corso meno di un minuto l'anello non è lontano granata frammentazione lanciata meno di 30 secondi l'anello è vicino potrebbero averti visto nemico abbattuto ricarico ci siamo quasi siamo vicini all'anello sto controllando sto controllando i dintorni sono in alto giro sto combattendo il nemico nemico a terra mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi usate la mappa come guida l'anello si sta muovendo siete i campioni Apex a presto a presto